Sapete cosa sono queste? Sono le zucchine trombetta, una varietà di zucchine tipica della Liguria. Hanno un sapore molto delicato e noi oggi ci prepareremo una frittata di ceci e zucchine. Le tagliamo a rondelle e le facciamo saltare in padella con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e un bel pizzico di sale. Dobbiamo cuocerle per una decina di minuti o finché non diventeranno belle morbide. Poi spegniamo, togliamo l'aglio e ci dedichiamo all'impasto. Un bicchiere di farina di ceci, un bicchiere d'acqua, un cucchiaino di sale e un giro d'olio. Mescoliamo bene il tutto e lo trasferiamo poi nella padella dove abbiamo cotto le zucchine, dove avremo riacceso la fiamma tenendola al minimo. Per renderla più croccante possiamo distribuire della farina da polenta sulla superficie. Quando la parte superiore sarà asciutta sarà il momento di girarla, aiutandoci con un piatto o con un'altra pentola. La facciamo cuocere per qualche minuto anche dall'altro lato ed eccola qui una volta pronta. Facilissima da preparare e probabilmente piacerà a tutti. Se avete scoperto queste zucchine grazie a questo video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.